La fase più complicata, quella che aveva seriamente fatto pensare al fallimento del club, sembra essere stata messa alle spalle. In casa Fidelisandria, se non si può parlare ancora di clima sereno, si può quantomeno tirare un sospiro di sollievo. I fitti dialoghi intrapresi nella scorsa settimana dall'amministratore delegato Pietro Lamorte con i calciatori protagonisti con la maglia bianco-azzurra nella scorsa travagliata e drammatica stagione hanno portato i loro frutti, sono iniziati nelle scorse ore e proseguiranno fino alla giornata di domani i pagamenti degli stipendi sospesi alla maggior parte dei tesserati, quelli con i quali la società è riuscita a trovare un accordo sulla base della transazione proposta qualche giorno fa tramite PEC. Un accordo questo che permetterà al sodalizio federiciano di snellire il quadro debitorio relativo alla stagione terminata anche se per parlare di obiettivo raggiunto al 100% si dovrà trovare una quadra anche con la parte minoritaria con la quale ancora non si è riusciti a individuare il giusto compromesso. Solo una volta superato definitivamente questo primo importante step si passerà all'estinzione completa del debito stagionale anche grazie al supporto economico del presidente Rosselli e del presidente onorario Catapano e conseguentemente all'iscrizione della squadra al prossimo campionato di D iscrizioni che dunque adesso sembra essere più alla portata sospese per il momento intanto tutte le possibili trattative per l'accessione del club il discorso non è chiuso anzi ma adesso si tornerà a pensare più in là quando le acque si saranno totalmente calmate.